Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovi video di news su Call of Duty Black Ops 3. Come sempre prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace ed un commento per supportare il video e il mio canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi. Finalmente con questo video riuscirò a rispondere a una delle domande che mi state facendo più insistentemente nei commenti e cioè dove potrò vedere le partite quindi le finali del COD XP 2016 che si svolgerà dal 2 al 4 di settembre a Los Angeles? Vi spiegherò tutto quanto in questo video. La cosa bella di quest'anno è che potremo gustarci le principali partite del COD XP commentate direttamente in italiano. Troveremo infatti due grandissimi miei amici Ivan e Giorgio, nello specifico Ivan Rampage in the Box greco e Giorgio Power Calandrelli. Vi faccio vedere il sito ma ovviamente ve lo lascio anche qui sotto in descrizione dove potrete vedere la stream di queste partite che saranno proprio commentate in italiano direttamente dall'evento. Gli orari che vedrete sono già in ora italiana così almeno vi renderete conto perché ora vi dovrete organizzare per seguire queste bellissime partite. Con l'occasione faccio un grosso in bocca al lupo ad Ivan e a Giorgio per questa bellissima esperienza al COD XP 2016 e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale.